Fratelli d'Italia dall'inizio dell'emergenza coronavirus ha offerto al governo la sua massima disponibilità a collaborare e però anche nella nostra testa ci sono delle domande che oggi si fanno milioni e milioni di italiani alle quali chiediamo che venga data una risposta chiara. La prima di queste domande che formuleremo anche domani a Giuseppe Conte quando verrà in Parlamento per la sua informativa è perché il 31 di gennaio il governo italiano vara un decreto con il quale stabilisce un'emergenza sanitaria per i successivi sei mesi ma poi non fa assolutamente niente di conseguente con quella scelta. Perché dal giorno dopo aver stabilito che c'era un'emergenza sanitaria il governo italiano non si è messo a cercare le mascherine, i respiratori, a potenziare il sistema sanitario, a chiedere aiuto alle opposizioni, a porre il problema in Parlamento perché tutti potessero collaborare. Perché ancora il 15 di febbraio il governo italiano in collaborazione con le Nazioni Unite manda 18 tonnellate di strumenti sanitari in Cina? Perché? Perché avere risposte a queste domande è fondamentale anche per poter meglio affrontare i problemi che abbiamo in queste settimane e che avremo nelle prossime.